Siamo in un teatro bellissimo, quello di Fano, e prima di parlare dell'opera in questione diciamo una cosa importante che forse molti magari non sanno. Il teatro era un contenitore molto più interattivo di quello che è oggi o come lo concepiamo noi oggi in questo momento storico. Assolutamente sì, cioè nell'Ottocento il teatro era una seconda casa che raccoglieva tutti gli strati sociali perché il teatro è fatto ad ordini ma soprattutto c'è una platea ma soprattutto raccoglieva tutto quello che c'era fuori e cioè era un luogo in cui ci si incontrava, ci si trovava, si guardava anche gli altri perché non so se avete notato come fatto un teatro, i palchi laterali si servono per guardare l'opera, che c'è anche l'opera ma servono per guardare gli altri e quindi è molto divertente, più interessante di pettegolare sugli altri, non solo ma c'erano un sacco di posti nel teatro, c'era la casa da gioco, c'era l'osteria, ci si mangiava, si ascoltava un po' di musica, si chiacchierava, si ascoltava un altro po' di musica, è un po' come andare oggi a un cabaret piuttosto che a un piano bar e poi c'era anche uno spettacolo che si svolgeva e lo spettacolo che si svolgeva era spesso con grandissimi interpreti ma sempre legato a qualcosa che era accaduto, che stava accadendo, era legato al mondo, alla società, quindi le storie erano sempre storie che comunque attiravano, erano storie vere, non erano storie lontane, noi siamo abituati per esempio ad andare a teatro e vedere gli interpreti vestiti da 800, da 700, ma noi dobbiamo ricordarci che erano vestiti come quelli che andavano a teatro, per noi sono vestiti così e allora c'era questa immedesimazione, è un po' come il cinema, c'erano grandi storie, c'erano storie piccole, c'erano storie divertenti, c'erano grandi autori, c'erano autori di seconda fascia e si consumava in questo modo e dico la parola consumare perché se c'è un genere che era un genere di consumo era proprio il teatro, per noi adesso è tutto chiuso, cristallizzato, rispettoso, silenzioso, io so anche di chi è la colpa ma non si può dire e per cui è lontanissimo da noi, noi entriamo in questo teatro e perdiamo il senso del tempo, il senso dello spazio, il senso della contemporaneità, ci immergiamo per due ore, tre ore, quattro ore, dipende dall'opera, in un mondo o altro, poi torniamo fuori dal nostro mondo, per loro non era così, loro entravano ed era una continuazione del loro mondo, sia le storie che venivano raccontate, sia quello che trovavano dentro, poi si davano delle botte da orbi spesso in platea, tant'è che ci sono i documenti, per esempio gli avvertimenti che era proibito portare i bastoni in platea, perché altrimenti si picchiava di santa ragione, così come era proibito gettare, che poi le gettava lo stesso, i resti del cibo dai palchi, e quindi era come dire una specie di grande show, chiamiamolo così. E poi quello che avveniva sul palco, la musica, l'opera o la rappresentazione, veniva riverberato anche all'esterno, perché poi si cantava, si fischiava, c'erano addirittura i rulli prima ancora che uscisse l'opera. Usciva, usciva, cioè se c'è uno spettacolo in Italia, noi stiamo parlando di Italia, che è veramente popolare nell'Ottocento, è l'opera, e quando diciamo popolare, intendiamo proprio popolare, cioè non popolare in quanto diffuso, popolare in quanto destinato anche, consumato anche, conosciuto anche da ceti che in teatro non entravano, perché ovviamente per entrare in teatro c'era un costo. Come si fa a ridare questa dimensione popolare e popolana al teatro, quello che era l'opera di un tempo? A riaprire le porte del teatro? Cioè a fare in modo che il teatro sia una cosa sola? È un lavoro un po' lungo, nel senso che noi ormai siamo abituati ad altri modelli di consumo musicale. Sull'opera io da sempre ho deciso di essere preculturale, mi spiego meglio. L'opera la devo ascoltare senza pensare, dunque l'aria è fatta in questo modo, senti, ti fai convolgere dalla storia, perché basta niente per non accorgersi che cantano in modo strano. Io ho fatto proprio un Elisir per dei bambini molto piccoli, la destinazione era 4-10 anni e l'abbiamo fatto un po' recitato, un po' cantato, non tutto cantato. Allora, ma non interessava che cantassero in modo così strano, a noi interessa. E hanno seguito l'opera e poi tenevano le parti e poi dicevano no ma non fare così. E' così, cioè facevano come, senza saperlo, come si faceva nell'Ottocento. Nell'Ottocento se qualcuno non ti andava bene, dice no vai via. E alla fine, vi assicuro proprio su Elisir, io ancora questa cosa, e mi piglia il magone quando lo penso, 600 bambini che alla fine salutano Dulcamara. Tutti, ciao Dulcamara. Cioè, della storia d'amore sì, vabbè, ragazzote, ma per loro era Dulcamara. E 600 bambini che ti salutano Dulcamara perché hanno capito qual è la trama dell'opera, a cinque anni, a sei anni, vuol dire che l'opera arriva prescindendo dalla conoscenza culturale. E quindi questo è sicuramente un buon auspicio per tutti noi che vorremmo venire. Esatto, questa parola di Elisir che è un'opera bellissima da questo punto di vista, perché è un'opera dove si toccano delle corde e sono molto attuali. Lei è sapiente, lei sa leggere, lei è ricca. No, è ricca, insomma, è una fittavola, insomma, così. Lui, poverone, è un contadino e non sa scrivere perché quando Belcore gli dice beh, allora firmi il contratto se vuoi degli altri soldi per comprare l'Elisir, lui fa una croce. E quindi c'è intanto questa cosa. Poi c'è quanti sono i ragazzi che hanno paura di dire alla loro ragazza senti ma mi piacerebbe star con te e che soprattutto se lei ne sa un po' di più di lui, che spesso accade, hanno, sono ancora più intimoriti, sono intimoriti dalla conoscenza, dalla disinvoltura, quanti sono oggi? Probabilmente c'è qualcuno che dice ma questo qua mi sembra a me. Poi c'è Dulcamara, perché Dulcamara non è solo l'inbonitore, certo. Quando arriva, sembra Vanna Marchi, anche se i ragazzi di oggi non sanno chi è. Ma dice proprio uguale, uguale, cioè volete avere, non avete più le rughe, volete risanare, volete ringiovanire, volete questo, volete questo, e c'è, vi do il mio Elisi. Quanto ve lo faccio? Ve lo faccio a 30? No, ve lo faccio a 20? Ve lo faccio a uno. Che è esattamente come faceva Vanna Marchi. In realtà è molto di più. Lui serve per risolvere i problemi, arriva in una comunità, mette insieme un po' di cose, fa, soprattutto riesce a fare, dire alle persone quello che non hanno il coraggio di dire, riesce a fare uscire il cuore dalle persone, a essere diretti, e poi quando ha risolto questo problema non sta lì a godere del frutto, non sta lì a dire, vedete, adesso che si fa... No, ricarica tutto sul carro e dice vado da un'altra parte, no? Come Mary Poppia, si è girato il vento e lei va via da un'altra parte. E questa cosa, vi assicuro, io ho sempre questi bambini davanti, questa cosa i bambini la capiscono immediatamente. Sì, c'è la storia d'amore, ma c'è soprattutto questo che mette insieme le cose con delle cose un po' stupide. E quindi lo possiamo ritrovare in tanti aspetti della nostra società attuale, questa dinamica che andrà in scena fra pochi giorni qui al Teatro della Fortuna. Questa dinamica, c'è il filtro, quasi quasi, aspetta, anch'io ci provo, improvvisamente ti arriva proprio quello che ti vende l'Elysier, ah ma io so tutto della Regine Isotta, allora se il Tristano, allora compro anch'io l'Elysier. E quello gli dice, aspetta però che dura fra 24 ore, così faccio in tempo ad andare via. E poi si lascia coinvolgere. E quindi un'opera fruibile da tutti questa. Assolutamente sì, anche perché tra l'altro è un'opera che ha tantissimi pezzi che anche questi sono diventati quasi musica comune, cioè ci sono brani, pensiamo alla furtiva lacrima, che peraltro Romani non voleva. Cioè la storia di questo Elisier è una storia inquietante, perché doveva tappare un buco per un impresario, peraltro marchigiano, a cui avevano fatto un bidone, si può dire bidone. Non so mai quello che si può dire. No, si può dire. Eccoci. E allora chiama Donizetti e dice, senti, tu hai la fama che scrivi rapido. Io ho 15 giorni, vedi tu. Donizetti chiama i Romani e gli dice scrivimi un libretto. Guarda, abbiamo 15 giorni, equanime. Sette a te, sette a me. Tu scrivimi un libretto, i Romani, siccome non c'era internet, sa che c'era un libretto già pronto, che aveva avuto successo in Francia un paio di anni prima, si impiglia questo libretto, lo adatta, era il filtro di Scribobert, e lo fa quasi simile. E non ci mette la furtiva lacrima. Donizetti intanto scrive, 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 e a quel punto decide di mettersi questa romanza. I Romani manda questa lettera a Donizetti dicendo, ma è assurdo dal punto di vista drammaturgico una cosa così, perché siamo ormai la fine, e tutti quanti sappiamo che quando siamo verso la fine dobbiamo finire. E invece questa cosa interrompe una, come dire, una specie di corsa finale, di rush finale. Si interrompe tutto sulla furtiva lacrima e Romani usa proprio la parola piagnucolata. Dice, ma fermare tutta la cosa per questa piagnucolata. Donizetti che invece sapeva benissimo come funzionano le cose e aveva peraltro un tenore che era genero, che era molto bravo nel patetico, dice, no, io qui ho bisogno di fare questa cosa. E lo stile musicale della furtiva lacrima, ma anche della primaria, quanto è bella, quanto è cara, lei parla, io non so niente, non so come fare, no, la primaria di Nemorino dice, lei è bravissima, sa tutto, sa tutto, legge, impara, ma legge anche tu, ah no, non sapeva leggere, e io non so cosa fare, sono qua. E alla fine è questa. Assomigliano molto, per esempio, all'andamento delle barcarole di certe canzoni napoletane. Ci pensiamo, certe, in un te voglio bene assai, no, questo andamento, che era qualcosa che era già nell'orecchio, cioè nel senso che quell'andamento, quello stile, ed è fra l'altro un momento, un cu de teatre, perché è come se tu ghiacciassi tutto in quel momento, si fermano tutti e c'è questo momento in cui lui dice, oh, finalmente forse, chissà. Direttore, a che punto è la messa in opera di questo partito così importante? Beh, stiamo sulla buona strada, nel senso che abbiamo già fatto la prima prova musicale, le letture con l'orchestra, e con la regia abbiamo già montato tutto il primo atto, chiaramente è una produzione compressa, quindi diciamo, in sei giorni dobbiamo fare quello che di solito si fa in un mese, ecco. Ecco, allora, a parte i tempi stretti, anche un posizionamento dell'orchestra inusuale, insolito, per voi, com'è questa posizione? Sì, diciamo che, se non è difficile, non ci piace, ecco, quindi, quindi, l'orchestra sarà sul palco, è un po' in stile, come dire, diciamo, diventa parte integrante della scenografia, quindi non ha soltanto più la funzione del suonare l'opera, ma anche di, fra virgolette, recitarla, e quindi, troveremo un'interazione anche dei protagonisti con i musicisti dell'orchestra, e addirittura con me, che mi ritroverò a dire qualcosina, infatti, speriamo che vada bene, un'insolita mansione, però, insomma, penso che questo faccia parte di questo mix, di questo nuovo modo, anche, di leggere, di interpretare la musica. Guardi, sicuramente, questa è una produzione che è decisamente molto coinvolgente, anche perché il cast, i cantanti, in realtà, gestiranno l'intero teatro, non soltanto il palcoscenico, quindi veramente il pubblico sarà avvolto dai cantanti e anche dal coro, addirittura, quindi sicuramente è una visione, adesso non voglio esagerare dicendo nuova, innovativa, comunque è una visione molto particolare e originale, e di sicuro non passerà inosservata. Ecco, i giovani sono sempre un po' il discriminante, no? In questo ambito, come facciamo a tirarli dentro? Guardi, è una parentesi molto lunga questa, in realtà, io vi posso assicurare che ogni volta che ho fatto delle anteprime per le scuole, adesso sto parlando di opera lirica, lasciamo stare il sinfonico, lì è un altro discorso, ma nell'opera lirica, quando i giovani vengono a teatro, vedono che si alza il sipario, vedono le scenografie, i costumi, le luci, il direttore d'orchestra, l'orchestra, i cantanti, in realtà vengono sempre rapiti da quello che succede sul palcoscenico, cioè il concetto che l'opera lirica sia qualcosa di elitario e difficile da capire è assolutamente fasul, è un mito storico errato, è la cosa in realtà più popolare che possa esistere al mondo, ma veramente più popolare, non credo ci sia nulla che non sia stata concepita di più dell'opera lirica come un qualcosa rivolta al pubblico, al pubblico non colto, perché voglio dire, quando l'Elisir d'Amore andò in scena, le persone che lo andavano a vedere, nei palchetti cenavano, mangiavano, chiacchieravano, passavano il tempo, giocavano a carte, perché questa era l'opera, ecco, quindi in realtà il messaggio che passa purtroppo oggi è sbagliato, ma quando però poi i giovani a teatro ci vengono sempre ne rimangono coinvolti.